Battle Royale Evitate il gas, andate alla zona sicura Zona di lancio marcata, pronti Rattelli disponibili, al lavoro Rattelli Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Dove sono? Eh, ne faccio un paio e poi devo andare a dormire. Ne voglio vincere una... voglio essere più bravo in solo. Arrivo quasi sempre a top 3 e un po' mi rompe il pene. Cassi in arrivo! Però ero sempre facendo il tasting, cosa è strana, eh? C'è anche da dire questo. Non è che munizio, non è che falla. Niente. No, per via. Nulla. Ma sono full munizione cecchino, what the fuck? Vediamo un po'. Un po' di nemico in volo. Mi sa che torno al... Mi sa che torno al... All'antennino, al lato per torrona. Non vedo... Problemi. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Vedete, stanno ancora picchiando. Io sono goloso, voglio andare. Questa è una cosa che non dovrei fare. Ho marcato un elicottero. Sto per tritare lo... Il quad. Non ci credo. Mi sono operandoti in un casino. Per finire il mio altro casino. UAB nemico in volo. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Approvvigionamento marcato. Gli assi in arrivo. Spostamento nella zona sicura. Mi muovo di qua. Nemico! Spostamento nella zona sicura. La macchina. Questa è una macchina. Non l'ho capita. Ma addosso. andate perdendo terreno cecchini cecchini a porte oldo non oldo che dubbi UAPI nemico in volo nemico UAPI nemico dove posso andare? in suolo devo giocare soltanto nei cespugli cioè qualunque cosa faccio deve stare dentro un cespuglio è un po' una merda contratti non ce ne sono mi sposto venditore marcato un cespuglio da questa parte non sarebbe male voglio anch'io la mk9 lo l'hai eh apoo tu non ci credi abbastanza te l'ho detto che ce la facevamo in su warzone a sbloccarlo tu non ci credevi sta un po' schifo ma perchè so sempre dove si chiude la safe qui c'è un figlio di puttana però 5 aspetto eh sì non so perchè è un'area un po' ambigua dovrei fare dei codi notte chill e di pomeriggio faccio altri giochi ma è una tortura male che cosa perchè ci siete più gravi però brava non c'è neanche il crossplay attivo pensa allora dov'è la torre di merda qua eh a me serve un cazzo più o meno lì è pieno di cespugli magici la mente del gas in arrivo qui è tutto lootato devo trovare un cespuglio un attimo magico e aspetta che si chiuda la safe 35 volte non è male qua una foglia insieme a un tizio ma è una tortura madonna mk9 ah ho capito adesso dopo non è detto perchè se continuiamo come prima ce la facevamo 15 partite oppure boh sono cumulative non lo so dobbiamo fare maloppo ne è già fatta una secondo me ce la facciamo appena finisce di studiare dopo facciamo ancora il zoz mi muovo mi muovo troppo bella maschera mannaggia 24 stronzi tipo qua mi ricordo che c'era un cerchuglio bello era anche il titolo della live poi aiutiamo a fare mk9 mk9 20 persone in gigantesco al safe che palle solo che rotura di coglioni c'è un contratto non ci sono contratti è un altro metal solo porca puttana gassi in arrivo nuova zona sicura contro grazie gioco mi hai esplorito mi hai esplorito mi hai esplorito mi hai esplorito che ho un certo inizio qua grazie bombardamento avrei voluto un silenzio di tomba è meglio mettiamo in una claim per sicurezza no c'era forse nella mappetta la macchina ho detto andrà al negozio e sono andato a tritarlo niente di spettacolare voglio un cerchuglio del cazzo basta c'è la gente che muore a caso cioè che mi viene addosso così a caso non lo capisco ah ecco perché perché il centro safe è qui cazzo ma non si fa coprire qua è una merda devo tenere l'high ground ma non c'ho una minca di copertura non c'è un cespuglio che mi piaccia guarda che se c'è spuglio stare fermo e auguri devo stare fermo altrimenti mi spottano ragazzi moita è male allora io sono apparecchiato si guarda che potrei prendere un uav ma non me la rischio l'ho l'hai potrei distruggire quei veicoli devo mettere una crema in quei veicoli non male potrei morire male perché mi vede qualcuno che cammina lento un coglione goloso del cazzo vediamo questo punto holdo avete un lancio di equipaggiamento in arrivo è arrivato un messaggio o non ho capito cosa è successo ok ragazzi grazie che siete qua non me lo aspettavo così tanti così a caso per adesso sto facendo una buona partita dai ho ucciso un tipo due volte cioè golosissimo ho visto anche la clemano eh vabbè allora mi tengo a questo posto perché è comunque l'high ground quello aveva sangue freddo ma non aveva fantasma coglione voglio dare il ragnetto stai cosa vorrà dire stai sei stronzi vivi starma illegale te l'ho detto ma quando c'era già il glitch era 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 zozza te l'ho sempre detto come ci hai caduto non hai voluto expare cavo di tuoi e io lo ce l'ho ultra lenta come velocità di mira gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata così per dire una cosa qualcuno è morto malissimo quello dato è ancora attivo quindi solo mi avviso non c'è spuglio sono contento non credo che i tipi adesso abbiano più sangue freddo questa non è l'ultima safe ah sì sei pazzo tizio mi hai fatto cagare addosso mi hai fatto cagare addosso ci spuglio più alto degli altri gas in arrivo zona sicura riposizionata uff c'è il tipo che mi sta seguendo da prima gas in arrivo gas in arrivo qui si che prego mi hai fatto cagare addosso 0 0 0 0 0 0 0 0 gas in movimento, nuova zona sicura individuata gas in arrivo, procedere all'attacco Stryker 3 ricevuto, attacco in corso nessun colpo a segno nuova zona sicura individuata what the f- bella partita la vittoria di oggi non l'avevo ancora fatta meno male che avevano vissuto prima i veicoli allacchi, ho un po' smirato alla fine meno male non l'avevo passato solo di vizio perché avevo intravviso il tizio F***g noob, F***g boss camper